Sì, c'è un cuore. Sì, c'è un cuore. Sì, è 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 un cuore. Sì. Sì, è un cuore. Lo fai pure. Se lo sapessi non ci sarebbe bisogno di fare il rapporto, no? Sì, è un cuore. , è un cuore. , 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 ,, 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 , ,, Richard, sono in un ascensore che conduce al pangu Ci sono misure di sicurezza di cui dovrei essere a conoscenza? Niente di troppo sofisticato, credo Il pangu viene usato per lo più per la manutenzione e lo stoccaggio Quando sei là, cerca un secondo ascensore Ti porterà direttamente nella torre